Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale di The Sims C. Rieccoci qui con Final Fantasy XVI e la nostra avventura nelle terre di Valistea. Deviazione momentanea dalla missione principale che ci porterà allo scontro finale con Ultima. Vi porto alcuni scontri riguardanti la bacheca di caccia. Li ho raggruppati gli ultimi che sono riuscito a trovare in giro e a registrare. Vi li porto tutti in questo episodio, quindi godeteveli e poi dopo continueremo negli altri episodi, negli ultimi pochi episodi, mi auguro, la nostra missione principale, sperando di sconfiggere definitivamente Ultima. Andiamo! Bene ragazzi, siamo a Cressida, qui. Tecnicamente qui dovrebbe esserci una della bacheca di caccia di grado S. Quindi adesso ci addentriamo in zona, sconfiggeremo altra gente, come ho fatto finora, e poi andremo a imbatterci, penso, in questo nemico. Ci vediamo lì comunque, dai! Una fonte... C'è qualcuno? Eccolo qua! Urta! Repotente! Atlas! Grado S Grado S Allora, vediamo se farci colpire. Facciamo anche il terzo. Via! Presumo che se questo mi sfiora mi devasta Ah, yeah E' potentino il signore Ovviamente non ho neanche pozioni Perché sono furbo, mi presento ad una lotta con un grado S senza pozioni C'è un po' che c'è C'è un po' che c'è Vediamo che c'è un po' di vita Usiamo più mosse possibili Non è che io ho tolto tantissimo però è meglio di niente C'è un po' che c'è un po' che c'è È un po' che c'è Sto sbagliando con sa Non ho ancora la carta Traviamoci Ok un po' l'ho danneggiato Anche così Trovo ancora questo Quindi la manifestazione parziale Recupero un po' di energia Alla Faccio questa Ma non l'ho neanche beccato Beccati questa Onda energetica Oh scassato Torna a dormire Bene smontati Basta c'è niente per me Niente Si ritorna Alle missioni Ci vediamo col prossimo grado S Allora siamo all'obelisco di Glorious E tecnicamente dovrebbe esserci qualcuno qui Andiamo a vedere Ci vediamo sul posto Ecco l'ho qua Ecco l'ho qua Drago Drago Irado O anagrammato No Puta Andiamo ad evitarli questi Che mi sembrano Fastidiosi Direi di iniziare a colpirlo Devo stare lì vicino per colpirlo Perché se no Gli faccio Il solletico Sembra lento almeno Però Però potente Sì Devo avvicinarmi Si ho già usato Sei pozioni Praticamente Usiamo questa va Praticamente è sicuramente complicato non posso immaginare quando dovremo combattere contro Ultima direi che c'è l'asse è che l'oppolo Oh no, vai! No! Ho sbagliato clamorosamente Ho sbagliato clamorosamente, ho alzato la mira Si è arrabbiato Ahia! Si è trovata Sai cosa va? Ah, mordi! Sai cosa va? Ah, non so se ti sparassi sta onda energetica sa che l'ho mancato clamorosamente e nevole colpirlo sempre possiamo sembra abbastanza in difficoltà e nevole colpirlo beccati questo adesso non posso mancarti sei qui ok bene c'è pure un notevole aumento di livello no per niente bene un altro grado s scassato ci vediamo al prossimo se ce ne sono ancora allora siamo nel deserto del velcroi e tecnicamente dovrebbe esserci un grado s anche qui allora andiamo in là vedo un coso enorme magari è quello lì e si eccolo qua gorgimera grado s quante teste ha non ti arrabbiare eh figlia figlia stiamo lontano ok ok adesso lanciammi addosso un po' di roba così intanto continua a essere beccato non gli ho fatto un tubo beccati questo così intanto mi ricarico il coso mi ricarico il coso non ti arrivano non gli ho fatto una cosa ma ci l'amendi non ta un po' di roba non gli ho fatto un po' di roba non ti Ucca 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 Si ingrifa Ok Beccate un po' di roba Un po' di attacchi concatenati Solo 66.000 quindi ho fatto abbastanza schifo Non so mi trovavo a fare più danno quando avevo titano No l'ho mancato clamorosamente Non so Non so Non so Non so Non so C'era ciccato Si spara un gigafusione Preso Bene Abbiamo eliminato un altro grado S Siamo stati fortissimi Più o meno Dovevi scegliere uno della tua taglia E il posto era questo In questa zona qui Quindi dovete Superare quella linea lì che è un ostacolo di Altura Fate il giro Andate verso il centro della mappa E raggiungete il grado S Lo trovate più avanti nel corso del gioco Andiamo avanti Ci vediamo al prossimo Bene ragazzi Per l'ultimo Per l'ultimo Ricercato diciamo Della bacchica di caccia Di grado S Dobbiamo Usare l'obelisco di Vidar Graes E niente Lo trovate lì Subito sulla destra Che Pascola Andiamo a scassarlo Andiamo a scassarlo E' abbastanza arrabbiato L'altro cane da guardia dei liberisti E' chiaro E' un'esemplare di tenele Oscurità a cala Oscurità a cala No Sai cosa pare Torvalds, uccidi! Vai! Attacca! Mordi! Vai! Volna a queira! Vai! C aidari! Grazie a tutti. 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 Quindi anche per questo episodio extra, diciamo, è tutto. Se il video vi è piaciuto lasciate un like e un bel commento. Vi aspetto qui numerosi sempre sul canale per proseguire e concludere l'avventura insieme. Vi aspetto numerosi. Un saluto a tutti. Un saluto a tutti. Un saluto a tutti e a presto.